Ehi, non potete fare come pare a voi! Avete perso il set! Che diavolo, che diavolo sta facendo! Hai scoperto qualcosa? Niente, purtroppo. Nessuna pagina. Nulla. Impossibile. Devono avere qualcosa di particolare. Pensa! Ho pensato fin troppo. Non vedo indizi in questi dipinti. Salahe, Leonardo non cela le sue ricerche. Scrive spesso alla rovescia e... Ezio, fa anche degli esperimenti con gli inchiostri, fra i quali uno che svanisce. Ma l'inchiostro invisibile non si può vedere. Giusto? Ezio, usate il vostro dono! Sai anche di quello. Sì! Va! Chao… Via! Grazie a tutti. 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 Ce n'è uno qui. Ce n'è un altro. Grazie a tutti. Qui c'è un disegno. Ce n'erano due anche in questo. Vedo un disegno. Ho trovato uno. Ne ho trovato uno. Ho trovato due disegni. Ho trovato tutte le immagini. Sembra che si possono combinare. Avanti disegnatele. portami, 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 portami... portami, portami. portami, portami. portami, portami, portami. portami, portami, portami. portami, portami, portami. portami, 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 portami. portami, 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 portami. portami, 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 portami. Ecco l'ingresso delle catacombe. Andate, riportatelo da me. Tieni duro vecchio mio, sto arrivando.